auto usate finalmente questa è la finestra giusta per parlarne sarà un appuntamento molto frequente sul nostro canale youtube e parleremo di tutto quello che riguarda la galassia usata perché galassia perché non sono l'unico ad essere appassionato di auto usate avanti lo siete anche voi e magari non lo sapete perché si possono comprare auto usate per necessità mi hanno rubato la macchina oppure un incidente un problema al motore grave che implica la sostituzione ma cavoli la mia macchina nuova ci vuole un anno per averla allora ne trovo una semestrallo di due mesi di usata più simile a quella che avevo oppure che ne so 18 anni ne ho patentati macchina nuova no no almeno non tutti allora spesso e volentieri si ricorre l'auto usata sicura perché comunque abs clima controllo di trazione va piano motore però una toccatina in parcheggio eccetera eccetera non ci dobbiamo troppo preoccupare perché appunto la macchina usata oppure come nel mio caso si può sognare si può continuare a essere malati di auto e acquistare delle auto usate per ragioni di budget ma soprattutto per passione per togliersi quello sfizio perché quando si era piccoli giovani chiamiamo giovani lo zio l'amico il cugino il vicino di casa aveva quel tipo di macchina che voi sognavate oppure quel tipo di macchina che correva al tempo in super turismo nei rally che ovviamente non vi potevate permettere da nuova e che adesso però inizia essere appetibile e poi parte la ricerca la ricerca dell'auto bene avete le idee più o meno chiare su quale auto volete benissimo in internet ci sono tanti annunci quale selezionare come telefonare cosa dire cosa chiedere come ricercare la documentazione giusta come iniziare una trattativa perché fondamentalmente la trattativa tra privati è una trattativa con una persona che non conoscete quindi dovete conoscere la macchina dovete conoscere lui è bellissimo perché ogni tanto ci si imbatte in storie incredibili aneddoti della storia della macchina della storia del proprietario legato a quella macchina e voi ci entrate perché state per acquistare quella parte di vita sua questa è una delle parti 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 partiamo e questa è solo una delle tematiche che potremmo affrontare insieme perché poi parleremo sì tra la parte burocratica il passaggio di proprietà cercherò di essere morbido ma non ce la farò bollo assicurazione tutto quello che orbita intorno all'acquisto dell'auto io sono qui ci sono tante tematiche da affrontare tanti temi eccetera mi aspetto le vostre idee i vostri suggerimenti perché poi mi piacerebbe tanto anche parlare effettivamente di auto quale meglio quale peggio con 5000 euro cosa mi compra una tazione posteriore un'anteriore da divertirmi una ibrida quindi usatemi